Pronte 200.000 dosi di vaccino per la campagna anti-influenzale che avrà inizio il prossimo lunedì all'Asl Salerno. L'obiettivo dell'azienda è di prevenire le forme gravi e complicate di influenza in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave, in particolare anziani e persone di tutte le età affette da malattie croniche. Il periodo migliore per vaccinarsi contro l'influenza va da fine ottobre a fine novembre. Il vaccino verrà offerto gratuitamente ai soggetti di età pari o superiore a 65 anni, bambini di età superiore a 6 mesi ed adulti fino a 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza e persone conviventi. Bambini ed adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicidico, donne che all'inizio della stagione epidemica si ritrovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti, medici e personale sanitario di assistenza, compreso personale di assistenza a case di riposo ed anziani a domicilio, volontari dei servizi sanitari di emergenza, forze di polizia, vigili del fuoco, personale di asilo nido e scuole dell'infanzia e personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani. La vaccinazione per i soggetti adulti al rischio di complicanze gratuite viene effettuata dai medici di famiglia che hanno aderito alla campagna COCO con accesso diretto presso gli ambulatori vaccinali dei distretti sanitari dell'ASL.